Ciao raga bentornati sul mio canale youtube, oggi altro appuntamento con quella che è una top ruolo, ossia stavolta andiamo a parlare dei terzini dopo la patch, disclaimer, 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 visto che io sono molto empatico, ok? Sarà forse pure un mio difetto, però se su 100 commenti ce ne sono anche solo due negativi me la prendo a male, ok? E penso che magari avrei potuto fare le cose diversamente o avrei potuto non farle. Il titolo post patch non sta a significare che necessariamente sia cambiato il gioco e siano cambiati i giocatori vi ho già detto che per me il gioco effettivamente è cambiato, il meta si sia spostato verso un altro tipo di gioco nel senso che si abusa di filtranti eccetera eccetera e il gioco è un pochino più lento, quindi su questo non ci piove poi ognuno ha le proprie opinioni. Post patch per quanto riguarda i ruoli potrebbe essere semplicemente una sorta di classifica va aggiornata al momento in cui uno registra il video perché con stammeria di carte speciali che escono di volta in volta ci sta secondo me andare a fare un punto dei giocatori che ci sono per valutare le alternative quindi nel titolo c'è scritto post patch ma interpretatelo come vi pare top terzini dicembre 2020, top meta eccetera eccetera per me al momento sono questi i terzini video che è diviso in due, abbiamo sia i terzini sinistri che quelli destri ovviamente non scandalizzatevi come al solito se non trovate i vostri pupilli ci sono i giocatori che secondo me sono i più validi A perché effettivamente sono forti B perché sono anche quelli che magari si riescono meglio ad ibridare quindi senza perderci in chiacchiere passiamo subito ad analizzare il primo giocatore primo giocatore che è il sempreverde Ferlamendi che al momento rimane il miglior terzino sinistro del gioco questo perché non solo perché è un giocatore che abbiamo visto e rivisto un metro e ottanta alto alto quindi coniuga entrambe le fasi alla perfezione 4-5 quindi anche un passaggio col piede debole in grado di farlo statisticamente è una saetta a livello difensivo è messo bene è aggressivo, ha degli ottimi passaggi per comunque un difensore la sua caratteristica fondamentale è che linka a meraviglia con Varane si fanno una bella tripla tra di loro quindi non hanno bisogno di altro fanno un bel link verde e chi si è visto si è visto quindi ti permette di mettere in alto comunque un Neymar con un Bappé eccetera eccetera quindi questo è il motivo per il quale lo preferisco ad esempio a un altro terzino che per me è molto molto valido e che qualora si vada a linkare bene nelle vostre squadre per me può essere una degna alternativa a questo Mendy che è il buon Theo Hernandez nella versione 86 da poco rilasciata che però rispetto a Mendy è un metro e 84 quindi è 4 centimetri più alto e ha un body type per chi ha visto il video sul body type è diverso perché è un più robusto quindi lo sentite che è un po' più pesante non so come descriverlo in più ha alto normale quindi magari ha un work rate che è un po' diverso rispetto a Mendy e qualche volta potrebbe essere fuori posizione in più è un 3-3 questo vuol dire che magari il passaggio sul piede è sbagliato o ve lo sbaglia e in più non ha la possibilità di fare che so un tacco tacco in fatto bene una crocchetta eccetera eccetera statisticamente però è tanta roba perché veloce veloce statisticamente passaggi corti al top i lunghi un pochino così e così è agile, è reattivo, ottime statistiche difensive aggressività e forza la forza anche qui è una nota un po' dolente perché questa nota diciamo dell'84 lo appesantisce insieme anche al body type per il discorso precedente in più vi ripeto che non avendo triple di intesa magari è un pelo più difficile da ibridare però rimane comunque un giocatore di assoluto rispetto che ho piazzato al momento al secondo posto al secondo posto davanti al buon Adama Trorè un altro difensore terzino stradibattuto una carta molto valida anche in questo caso di fatto abbiamo work rate alto alto 1,78 m, mossa abilità 4, piede debole 2 quindi occhio ai passaggi sul piede sbagliato però la mossa abilità in questo caso ci permette di far fare almeno un tacco tacco come Cristo comanda ovviamente le statistiche parlano per lui è un fulmine passaggi ce li ha insomma un po' così e così visto che ha di corto 79 e di lungo 66 e per un terzino è fondamentale saper fare almeno dei filtranti agile agile buon equilibrio forza 90 che ve lo dico a fare questo sembra un bodybuilder a livello difensivo anche non c'è male tuttavia questo qui per diversi motivi io lo colloco secondo me abbastanza indietro a quei due che abbiamo visto A in termini di ibridabilità B perché secondo me in fase offensiva in fase difensiva volevo dire ragazzi vi dà molto meno rispetto agli altri ho visto che c'è qualcuno che l'ha utilizzato DC eccetera eccetera io non sono un grosso fan di queste cose avete un po' imparato a conoscervi per me se un giocatore nasce terzino soprattutto dietro muore terzino un conto è un giocatore che magari parte esterno e può fare la punta del C e C ma in difesa io preferisco utilizzarli al loro posto per cui mi hanno chiesto miliardi di volte ma se metto Adama poi lo sposto DC sposto Chiellini DC a fianco a lui e allora poi metto Mataus, CC e Elon Musk terzino sinistro capite che piuttosto che giocare a FIFA mi metto a fare indovina chi per trovare tutti i tasselli giusti al posto giusto quindi onestamente questo qua per carità valido anche da Super Sub può essere utilizzato assolutamente magari non in zona offensiva perché di finalizzazione a 72 a meno che non lo si utilizza solamente per correre e basta ma comunque un gradino indietro ai due terzini che abbiamo visto in precedenza a completare la lista dei terzini sinistri abbiamo Stodevis e questo preparatevi perché saranno fuochi d'artifici quando esce il Toti perché uscirà sarà illegale un metro e 81 alto normale 4-4 piede sinistro fulmine anche lui passaggio corto al top in lungo che puzza abbastanza però qui abbiamo ottime statistiche di dribbling con agilità 90 equilibrio 87 ottimo controllo palla statistiche difensive migliori rispetto ad Adama per esempio forza 79 aggressività 82 questo qui per esempio lo potete andare a linkare anche volendo con un Alaba quello Road to the Final che si va ad upgradare ed è un ottimo giocatore questo Davis l'ho visto utilizzato anche da sub da esterno vi devo dire anche in tornei competitivi e fa il suo quindi tenete un occhio aperto costa sicuramente tanto quindi rapporto qualità prezzo preferisco comunque un Mendy o un Teo ma questo Alfonso può sicuramente dire la sua e vi ripeto occhio al Toti perché sarà spaventoso per quanto riguarda i sinistri abbiamo finito passiamo ai terzini destri e come avete visto io nei video scorsi avevo utilizzato il buon Cancelo e assolutamente il buon Cancelo si piazza nella mia numero 1 come personalissima preferenza di fatto 1,82 m alto normale anche qui il work rate non è proprio l'ideale ma non ho trovato un grosso problema anche in partite contro pro bene o male il suo l'ha fatto 4 di mostriabilità e 3 di piede debole quindi occhi e passaggi fatti con il piede opposto 85 di corto e 79 di lungo sono ottime statistiche è veloce ovviamente agilità che magari rispetto agli altri è un po' inferiore ma comunque per un terzino va più che bene statistiche difensive che si sentono e aggressività 76 quindi la risposta alle domande è meglio di Semedo è meglio di Walker al momento sto Cancelo anche in ottica upgrade si colloca secondo me su un gradino leggermente superiore Semedo che però rimane comunque il mio secondo preferito l'ho utilizzato per tantissimo tempo anche questo potrebbe pigliare magari una versione speciale upgradare sto one to watch normale alto di work rate 1.77 4.3 in questo caso ovviamente abbiamo un altro giocatore che conoscete tutti veloce sicuramente i passaggi che sono probabilmente un po' ambigui i peggiori di questi grupponi agilità e agile statistiche difensive che sono ok e aggressività 81 con una forza che lascia un po' a desiderare però sto Semedo c'è un bel body type in game l'ho trovato sempre abbastanza agile e reattivo a spostare gli avversari a recuperare valla ha sempre fatto il suo qualche volta mi ho fatto pure qualche colletto senza infamia senza lode ma ha sempre fatto il suo motivo per il quale io per esempio l'ho sempre preferito a Walker Walker che per me attualmente va utilizzato il DC nella versione IF che è il DC più forte del gioco però sto Walker per me è penalizzato un po' dal body type dal fatto che abbia 3 di skill per carità poi alto alto quindi tanta roba veloce veloce c'è anche dei buoni passaggi però non è tanto agile a livello difensivo bene o male siamo lì e forza e aggressività comunque anche lì insomma siamo su parametri abbastanza decenti quindi vi ripeto per questi motivi io l'ho piazzato dietro Semedo e dietro Cancelo e soprattutto per il fatto che la versione IF è troppo più forte per utilizzare questo terzino Walker TD lo posso mettere DC a 7 no per gli stessi motivi per i quali in difesa vi ho detto che nel caso di Adam i giocatori vanno lasciati al loro posto secondo me l'unico switch che proprio farei magari è un Maldini TS sculato dal Pac Icon con un giocatore che effettivamente vi può andare a fare poi il terzino un Mataus Baby che va switchato magari con un in Chiellini ma uno switch non le triangolazioni del Cubo di Rubik per far combaciare tutto per quanto riguarda poi un altro giocatore molto molto interessante è sto Tavernier un metro e ottanta alto normale 3-3 quindi occhio ai passaggi col piede opposto anche in questo caso che però sono molto buoni 84 del corto e 79 lungo molto rapido ottimi parametri di agilità controllo palla dribbling buone anche le statistiche difensive anche se quel 72 di lettura difensiva e quel 75 di aggressività mi hanno un po' perplessi io non l'ho provato ma me lo sono ritrovato contro più volte però il suo lo fa per quello che costa può essere tranquillamente utilizzato potete anche testarlo e decidere se vi piace o meno però si colloca sicuramente dietro ai giocatori che abbiamo visto e va al pari di questo Beyerin Beyerin che ha dalla sua il fatto che è un giocatore obiettivo quindi va solamente perso un po' di tempo per sbloccarlo ma è gratuito quindi non vi costa niente alto-basso è un problemino perché sto basso e alto in attacco mi perplime un po' per quanto riguarda le statistiche è sicuramente molto veloce passaggio corto-buono e lungo una schifezza agilità, equilibrio e reattività per un terzino vanno benissimo statistiche difensive in particolare rettura difensiva e aggressività con che le intercettazioni sono molto molto buone per un giocatore di 1,78 m che quindi comunque non è che abbia queste grandi leve e vi ripeto quella che è la mia politica delle carte gratis da sbloccare sempre testare e decidere se effettivamente provarle ma da quella che è la mia esperienza io lo vado a collocare dietro i giocatori che vi ho menzionato in precedenza a chiudere questo gruppone si presenta il buon quadrato anche per lui alto normale 1,79 m 5 di skill e 3 di piede debole quindi occhio anche in questo caso ai passaggi che sono la cosa che i terzini insomma hanno hanno maggiormente a preoccupazione in termini di qualità passaggio corto 84 lungo 72 un po' così e così ovviamente è veloce c'è anche una buona potenza tiro ovviamente non la finalizzazione agile e agile statistiche difensive che sono molto molto buone e aggressività 81 questo l'ho messo perché ovviamente va a linkare il buon Cristiano Ronaldo e mi chiedete spesso se è meglio questo o meglio l'IF sicuramente meglio questo che c'ha migliori statistiche difensive rispetto all'IF che comunque c'ha invece migliori statistiche di dribbling che poco servono insomma per un terzino e raga per quanto riguarda questa top chiamiamola così è tutto vi ho un po' presentato quelli che secondo me al momento sono i migliori terzini sinistri e quelli destri vi ripeto sono curioso di sentire anche la vostra su questi giocatori nei commenti e se ne avete degli altri che vi piacciono vi ricordo di lasciare un like iscrivervi al canale che stiamo volando tutte le info in descrizione per le live giornaliere sulla piattaforma viola e a me non resta altro che salutarvi ragazzi ciao 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 ciao